Papappo,. Abbiamo aperto! Bambini, andate tutti a visitare il nuovo punto vendito di Bellino Giocattoli. Tre piani di divertimento e giocattoli di tutti i tipi con tutte le ultime novità. Bellino Giocattoli, scegliete bene perché quest'anno i giocattoli li prendo qui. Bellino Un mondo di giocattoli Cinco al bel Cinco al bel